Il modo più rapido per eliminare questo grandissimo rompiscatole è scoccare una freccia sonica sul petto. La sacca congelante esploderà facendolo schiantare a terra. Raggiungetelo e iniziate a festarlo come se non ci fosse un domani. Con due o tre colpi pesanti d'asta, l'uccellaccio è sticchito. Io sono Vrex e questo è Tips & Tricks. Se la guida vi è stata d'aiuto, lasciateci un like, un commento e iscrivetevi al canale per altri video. Alla prossima!